La Ocean Viking della SOS Mediterranea è in viaggio con 261 migranti tratti in salvo a largo del Mediterraneo. Parte di questi dovrebbero essere dirottate al porto di Ortona, prefettura di Chieti e amministrazione comunale in attesa di notizie certe. Dopo la riunione di ieri, rinviata data da destinarsi al momento, le uniche informazioni note è che la nave sta viaggiando verso il porto di Brindisi dove è attesa per la mattinata di domani. Lì dovrebbero sbarcare 120 dei 261 migranti. Una volta ultimata l'operazione, la nave dovrebbe riprendere il largo a destinazione Ortona per far sbarcare gli altri 141. Su questo però pesano alcune incognite. Intanto una riguardante il protocollo. Una volta giunti in un porto, tutti i migranti dovrebbero essere controllati e identificati e bisognerebbe inoltre capire quale criterio dovrebbe essere adottato per stabilire chi potrà restare a Brindisi e chi dovrà proseguire per Ortona. L'altra incognita riguarda le condizioni meteo. Al momento le previsioni non sembrano particolarmente in fauste e la disponibilità e capacità della nave di proseguire il suo viaggio in direzione nord. In ogni caso, Prefettura di Chieti e Comune di Ortona sono pronte ad ogni evenienza. Lo sbarco della Ocean Viking previsto inizialmente per Ortona ha subito durante queste ultime ore una variazione di programma. Tant'è che una parte dei migranti sono stati dirottati verso il porto di Brindisi, mentre la restante parte dovrebbe arrivare ad Ortona. Però è una situazione in continua evoluzione. Noi siamo in attesa di conoscere le disposizioni finali e, come sempre, abbiamo organizzato la macchina organizzativa, la macchina operativa che, come sempre, dimostrerà per l'ennesima volta la propria efficienza per raccogliere nel miglior modo possibile i migranti.